I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, unitamente a militari della Guardia di Finanza in servizio presso l'aeroporto di Capodichino, hanno sequestrato 1033 confezioni di medicinali e farmaci privi di ogni certificazione e documentazione richieste dalla normativa comunitaria e nazionale, rinvenute durante un'operazione di sdoganamento e controllo dei bagagli individuali. Il viaggiatore, giunto in Italia dal Ghana per eludere i controlli dei funzionari doganali e delle fiamme gialle, aveva deciso, una volta giunto a destinazione, di non prelevare i bagagli dai nastri trasportatori della sala arrivi dell'aeroporto, dichiarandoli immediatamente come smarriti. Le valigie erano così rimaste custodite presso l'ufficio dell'aerostazione, in attesa che il proprietario tornasse a ritirarli. Nonostante l'ingegnoso metodo escogitato, il passeggero non è comunque riuscito a sfuggire ai controlli. L'uomo, un cittadino di nazionalità ganese residente nella provincia di Caserta, è stato denunciato e ora rischia un'ammenda fino ad un massimo di 100.000 euro e l'arresto fino ad un anno. I medicinali sequestrati, quasi 7.500 tra pillole, compresse e spray di varia natura, avrebbero potuto fruttare cospicui guadagni se immessi sul mercato, con altissimi rischi per la salute dei potenziali acquirenti.